flash memory perché sì perché ora allora questa è una presentazione che parla di flash memory in realtà parla di storage in generale storage moderno e qualcuno di questi concetti poi può essere espanso a tutta l'infrastruttura dicevamo sono scelte difficili soprattutto per gli utenti che lo fanno ogni tre anni, ogni quattro anni scegliere una nuova infrastruttura che deve guardare avanti non è facile soprattutto perché le tecnologie che sono uscendo adesso sono totalmente diverse da quelle che c'erano già solo due o tre anni fa e i trend di crescita in alcuni casi sono veramente difficili da individuare sappiamo tutti che cresciamo molto questo sì ma ci sono utenti che stanno crescendo più di altri io ho esempi di miei clienti che stanno targettando tranquillamente i 4 terabyte a utente e se tu hai un'azienda di mille dipendenti con 4 terabyte a utente sono 4 petabyte è un problema poi possiamo disquisire sul fatto che di questi 4 terabyte non tutto è attivo uguale non tutto è utile uguale eccetera ma 4 terabyte a utente non è così impossibile come si pensa è una questione di strategia quindi è una strategia di lungo termine ed è difficile perché noi siamo costretti a vedere queste tecnologie nuove alcune di queste alcune delle cose che parlo oggi non sono pronte cioè sono i primi prodotti che stanno uscendo sono magari l'ultima cosa alla moda che c'è nella Silicon Valley quindi non siamo però collegando tutti i puntini si riesce a vedere come ci sia questa evoluzione è come se io oggi devo iniziare a pensare a un'infrastruttura nuova e ora inizio a pensarci perché nel giro di pochi mesi le start up americane fanno molto il processo di America Europa e poi Italia che viene sempre dopo America, Nord Europa, Italia è molto più veloce una volta ci volevano due o tre anni oggi in sei mesi sono qua fanno molto più velocemente a cercare clienti perché internet perché tutto quello che vuoi anche perché anche per persone come me ci sono i blogger vengono invitati là ne parlano e gli utenti finali chiedono questa nuova tecnologia a volte sono immaturi e quindi ci si sbatte anche proprio in malo modo però nella maggior parte delle volte sono tecnologie così innovative che sì hanno anche il loro aspetto negativo ma i vantaggi che portano sono veramente distruttivi distruttivi dicevamo è una scelta rischiosa questa è la seconda slide dell'omino disperato sbagliare oggi può essere molto molto brutto perché se veramente io faccio una nuova infrastruttura e non sono in grado di rispondere alle esigenze che verranno domani ho fallito se l'infrastruttura non si espande in funzione delle richieste è vero che la palla di chistrallo non ce l'ha nessuno però devono essere infrastrutture in grado di scalare quando c'è una necessità di essere agili se c'è una necessità e così via ovviamente le infrastrutture devono essere bilanciate la prima cosa che si chiede ad un'infrastruttura è bilanciata quindi non è che posso mettere la rete a 40 gigabit i dischi meccanici le CPU che magari sono a 4 core eccetera tutto deve essere bilanciato per poter dare le giuste risposte e poter fare il delivery delle risorse che vengono chieste sempre e comunque per quanto riguarda lo storage la prima cosa che tutti guardano sono le I.O. per secondo le I.O. per secondo sono facili sono quante operazioni il sistema fa per ogni secondo ok non c'è niente da dire se non che non è l'unico parametro che si guarda in un sistema del genere vi faccio un esempio vi dico anche che normalmente noi compriamo lo storage un tanto al chilo ok il primo parametro che ogni vendor vi dice quando viene in azienda ah ma noi costiamo 2 dollari al gigabyte che va benissimo non voglio dire niente però voi in questo caso qui se dovete comprare le performance non interessa nessuno i 2 dollari al gigabyte probabilmente quello che interessa in questo caso potrebbero essere i dollari per I.O. PS se io devo andare forte probabilmente è difficile che abbia tantissime necessità in termini di capacità è più probabile che abbia necessità in termini di I.O. per secondo ok quindi il vostro database eventualmente Oracle che ha bisogno di tante I.O. per secondo probabilmente non è la cosa più grande che avete in azienda non è il file server dove mettete gli mp3 degli utenti dove gli utenti mettono gli mp3 scusate ok e c'è davvero un'altra cosa le I.O.PS non sono l'unica cosa perché tutti i workload sono diversi per cui il sistema deve gestire carichi di lavoro che cambiano anche durante la giornata ok quindi una parte importante è capire come il sistema che voi andate ad acquistare vada ad impattare sul sistema vi faccio un esempio allora quante volte avete visto la pubblicità a noi facciamo un milione di I.O.PS adesso siamo arrivati addirittura a noi facciamo 4 milioni di I.O.PS non dico il vendor però c'è qualcuno che dice noi facciamo tanti milioni di I.O.PS è vero il problema è che c'è sempre una scrittina così che immagino non riusciate a leggere spero non riusciate a leggere che era l'obiettivo dove non è che fai 4 milioni di I.O.PS come comunque le fai solo in condizioni particolari solo con un blocco particolare magari solo in lettura eccetera non è il vostro workload non è il mondo reale ok e questo è un problema e come dicevo prima le I.O.PS sono una bestia un po' particolare non vengono dalla cash per esempio quando il venditore viene ti dice ah noi scusa noi facciamo un milione di I.O.PS da dove? dalla cash quindi mediamente il venditore lasciatemi usare la parola ignorante nel senso che ignora la materia o il rivenditore furbetto vi dice il dato di targa del controller quindi con tutte le condizioni favorevoli magari in sola lettura magari leggendo solo dalla cash peccato che la cash è infinitissime molto più piccola molto più piccola della quantità di storage che avete a disposizione quando uscite dalla cash il gioco è finito c'era qualche tempo fa andava di moda un fornitore che aveva un sistema molto cash oriented ok il problema con l'era che appena si usciva dalla cash si passava da sotto il millisecondo a 200 millisecondi perché il back end di questo sistema era solo sata quindi il sistema era tutto meno che predicibile e è vero che potenzialmente era un sistema che aveva diverse decine di terabyte disponibili se non nelle ultime versioni centinaia di terabyte ma in realtà l'utilizzabilità come sistema primario di questo sistema era limitata a una percentuale molto piccola della capacità esposta vi do un numero che spesso si ignora un disco rigido meccanico ok da 10.000 giri fa 152 IO quindi quei dischi da 2 pollici e mezzo che abbiamo sulle nostre cose questo è quello che fa un disco oggi ok un disco ssd ne fa 60-70.000 ok a parità di condizioni mentre se lo spremo bene quindi con le giuste ottimizzazioni leggendo i dati nella parte giusta del disco perché ovviamente la testina si muove quindi se io riesco a far leggere i dati tutti nella stessa porzione di disco vado un po' più veloce diciamo che mediamente posso arrivare a tirar fuori 200 IO ma non è un grande numero ok ce ne vogliono tanti per fare per fare il le IO di cui posso aver bisogno oggi e c'è da dire un'altra cosa un'altra cosa che va a impattare sulle performance è la latenza cioè se io prendo un Francia Rosso faccio Milano Bologna Milano ok considerando che Milano Bologna è un'ora quindi se io avessi questa freccia Rosso vado a Milano apro la porta prendo un pacco chiudo la porta e riparto ci metto due ore se io dovessi fare con un treno regionale anche se il treno regionale non facesse fermate intermedie ok già solo per il fatto che la velocità è la metà ci metto quattro ore ok e ovviamente ho usato la stessa linea quindi che ha la stessa portata ma il tempo che quel pacchetto ci ha messo per fare la strada è il doppio tutto quello che ho detto l'ho riassunto qui la mia prima esperienza con la memoria flash è stata diversi anni fa e c'era questo signore che aveva un batch job di 36 ore era l'MRP della sua azienda quindi il ricalcolo del magazzino azienda grande il problema qual era che senza il ricalcolo del magazzino loro in produzione non ci andavano perché non sapevano che pezzi avevano per produrre le macchine quindi non sapevano quali macchine potevano produrre come mettere organizzare la produzione eccetera 36 ore partendo il sabato finisce la domenica bastava un errore da qualsiasi parte per cui loro lunedì mattina passare a 48 è un attimo parte il backup nel momento sbagliato un job che non va proprio come deve andare eccetera eccetera era tutto io wait cioè guardando nei server c'era l'io wait che era una percentuale elevatissima adottiamo la flash la prima flash un terabyte di flash dischi da 100 gigabyte costavano 7000 euro l'uno quindi è stato un investimento il signore ha dovuto fare il suo investimento la latenza si è abbattuta mostruosamente le io non sono aumentate tantissimo e siamo passati a 11 ore ok bene però con l'investimento che ha fatto 11 ore si è stato un miglioramento come è successo andiamo a vedere tutta tutta la cosa l'applicazione era scritta 30 anni fa ok aveva ancora si utilizzava il database ma aveva ancora dei file su disco ok ovviamente questa è una parte anche da un punto di vista computazionale molto molto forte aggiungiamo i nuovi server l'io weight è al 0% la cpu permetteva di velocizzare una serie di operazioni quindi il sistema era in grado di chiedere molti più dati di quelli che era in grado di chiedere prima e siamo arrivati ad avere finalmente più io al secondo quindi i server sono stati in grado di chiedere di più allo storage e siamo arrivati a 3,5 ore certo che in questo caso c'è stata una differenza finalmente quindi non è solo una questione di I.O non è solo una questione di latenza è un gioco fra i due che si mette a fare la nostra differenza e ovviamente passare da 36 ore a 3,5 ore significa che qualsiasi cosa possa succedere nel tuo weekend dove hai bisogno di fare l'MRP puoi rifarlo ma ancora di più invece di farlo nel weekend lo puoi fare ogni notte e quindi avere tutto aggiornato giorno per giorno invece che settimanalmente sul tuo magazzino e poter riconfigurare la tua produzione in funzione di quello che succede significa che se un cliente ti chiama e ti dice io voglio quella macchina e quella macchina la voglia fra una settimana tu non devi aspettare una settimana o cinque giorni per avere il tuo il tuo MRP aggiornato tu ogni notte ce l'hai e quindi puoi dire a quel cliente guarda domani mattina ti dico quando ti consegno la macchina perché posso verificare tutti i pezzi che mi mancano che ho che non ho eccetera eccetera quindi è questa la differenza ed è questo che va incontro alle esigenze di business che abbiamo tutti quanti un altro problema che si riscontra nei sistemi moderni è la prevedibilità cioè è bello avere la latenza al di sotto del millisecondo è bello avere tanti I.O però è bello avere un valore costante se io ho 100 I.O sotto il millisecondo e una di 100 millisecondi non va bene se io devo ad esempio questo qui è molto equiparabile al garbage collection dei dischi dei dischi SSD i dischi SSD non lavorano come dischi normali quindi ogni tanto fanno un'attività per cui devono ripulire le celle che non sono state usate devono riorganizzare i dati all'interno semplifico per farla semplice questa operazione vuol dire che il controller all'interno del disco deve fare dell'altro rispetto a rispondere alle vostre richieste facendo quello rallenta ci sono delle tecniche che se utilizzate correttamente permettono di eliminare quasi del tutto la garbage collection per esempio sapere dove scrivo i dati oppure sapere di che dimensione scrivere i dati in modo da fare minimizzare questa attività e portare questo livello ad un numero che è costante non tutti lo fanno però è importante saperlo perché ripeto la prevedibilità è tutto se io non ho un workload prevedibile non so quanto ci metto a fare quel lavoro so che teoricamente ci metto tot ma può cambiare di giorno in giorno ovviamente questo è un altro esempio se il mio sistema deve lanciare dei lavori ad una certa ora del giorno ad esempio non fa la deduplica in line ma la fa post processing vuol dire che a un bel ora del giorno lui deve rileggersi tutti i dati che sono stati scritti verificare le hash table eccetera eccetera e fare questa attività questa attività che può essere impattante impattante per altre cose magari in quell'ora lì c'era un job di backup che un giorno ci mette un'ora un giorno ce ne mette cinque quindi la prevedibilità del sistema è importantissima ovviamente anche l'elasticità è importantissima è una questione di efficienza cioè non è solo allocare risorse che è importante ma anche quanto devo dealloccare le risorse che è importante cioè se il sistema non è in grado di allocare e dealloccare con la stessa semplicità le risorse io mi ritroverò nel tempo un sistema che è inutilizzabile fino a un paio di anni fa c'erano dei vendor che non dealloccavano lo spastro usato ok anzi ancora oggi ce n'è qualcuno quindi tu ad esempio il theme provisioning ok con windows windows ha un file system ok che scrive in maniera lineare quindi segnala al sistema che ha svuotato dei blocchi quando questi vengono cancellati ma in realtà continua a riempire il file system in maniera lineare fino a quando non arriva in fondo e riprende ok questo modo di funzionare fa sì che tutte le tecniche di theme provisioning che usiamo normalmente vengono eliminate quindi se io riempio creo una luna da un terabyte e la riempio in una settimana ok anche se cancello i file quella dopo un po' è un terabyte sono stati aggiunti dei comandi per avvisare lo storage che c'è sotto che alcuni blocchi sono stati cancellati e quindi sono liberabili se lo storage ad esempio non lo capisce questo comando e lo scarta il tuo theme provisioning non funziona o meglio funziona il giorno zero quando lo implementi dopo una settimana tu ti ritrovi il sistema pieno anche se in realtà la macchina virtuale o il sistema operativo di una macchina fisica ti dice che ci sono tanti centinaia di gigabyte pieni sul tuo terra che avevi allocato una parte importantissima che viene oggi gestita è quella della riduzione del footprint alcuni sistemi sono in grado di comprimere e di deduplicare i dati significa che soprattutto nei sistemi flash perché prima non era in realtà possibile farlo in line quindi mentre i dati venivano ingestiti dalla macchina oggi con questi sistemi possiamo migliorare tantissimo l'efficienza del singolo media da un punto di vista di capacità perché tutti i dati uguali non vengono replicati e tutti i dati possono essere compressi ad un certo livello alcuni praticamente nulla altri tantissimo per cui questo ci porta ad avere anche 5 volte lo spazio in media lo spazio che teoricamente abbiamo acquistato cioè noi compriamo un sistema che ha 1 terabyte in realtà in produzione magari sono 5 a volte 3 a volte 20 dipende dai dati che noi andiamo a mettere ad esempio se il sistema viene utilizzato per il VDI dove tutti i pc che vengono virtualizzati sono identici probabilmente non è difficile arrivare a 20 a 1 ok per cui queste sono tecnologie molto importanti che aiutano a far diventare il sistema più efficiente e un'altra cosa che ultimamente è venuta fuori ad esempio VMware ha annunciato da non tantissimo tempo fa il VVOL VVOL praticamente è una tecnologia tale per cui una macchina virtuale viene entrocontenuta in un unico oggetto per semplificare in un unico oggetto in realtà sono diversi oggetti ma in un unico oggetto in una LUN ok e questo fa sì che noi possiamo per quella macchina singola definire il livello di performance definire la quality of service quindi quante quante risorse dare a quella macchina lì ok una volta non era possibile ovviamente questa è un'altra è un'altra caratteristica che se noi andiamo sui sistemi primari diventa fondamentale ok perché io voglio sapere se il mio database che manda avanti l'azienda ha tutte le risorse a disposizione quando il file server del secondario per l'archiving di qualche dato se non va la velocità della luce è uguale anzi quando ne avanza gliele diamo e se no eliminiamo il problema e un'altra cosa importante è l'automazione è sempre più importante all'interno delle nostre infrastrutture automatizzare il più possibile questo perché facciamo sempre più cose ok gestiamo sempre più servizi e più servizi e molti di questi sono attività ripetitive al 100% quindi più le facciamo e meglio è sempre lato data services un'altra cosa importante è l'integrazione cioè non basta essere compatibili con VMware VMware ha messo a disposizione e dico VMware perché ovviamente è il più famoso la stessa cosa la potrei dire per HyperV se avesse lo stesso livello anche di di integrazione possibili ma diciamo che è importante avere una piattaforma che sia totalmente integrata con tutto quello che c'è sopra totalmente integrata vuol dire che entrambi sappiano cosa può fare quell'altro per cui VMware ad esempio ha messo a disposizione tutta una serie di di API che permettono a chi c'è sopra di capire cosa c'è sotto il VAI per esempio che ti dice che il sistema può fare può gestire il team provisioning in maniera efficiente piuttosto che le copie all'interno dello stesso sistema senza impattare sui server a monte oppure il Vasa che ti dice che ti aiuta a capire praticamente descrive come funziona la macchina per cui tu puoi definire dei livelli di servizio grazie ad esempio a quell'oggetto lì e così via e questa è una parte che dicevo interessa a tutti cosa sta succedendo sta succedendo che rispetto al passato dove noi avevamo dei servizi di base che possono essere la data protection il ride è scontato che tutti gli storage che compriamo oggi in un modo o nell'altro hanno un meccanismo di protezione ride o non ride che mi protegge i dati è anche scontato che tutti quanti hanno le snapshot possono essere fatte bene possono essere fatte meno bene ma più o meno non andiamo distante non c'è niente di speciale qui può essere essere un po' più efficienti ma non fanno più la differenza qui iniziamo a vedere qualcosa che inizia a fare la differenza ci sono dei sistemi che rispetto al passato analizzano il comportamento della macchina lo analizzano collestionando tanti sensori tanti dati alcuni di questi parlavo con dei vendor prendono circa 100 megabyte al giorno di dati da ogni singolo array ok vengono più o meno in funzione del tipo di produttore mandati sul cloud quindi tutto il comportamento della macchina viene mandato o verso un server o verso il cloud vengono analizzati e ti dicono cosa sta succedendo per cui tu puoi fare delle azioni ok più sai come funziona la macchina più sarai efficiente nella gestione e infatti c'è un miglioramento del TCO innegabile ok soprattutto se questa attività viene automatizzata per cui ad esempio ho un problema la macchina apre una chiamata dice già che tipo di problema c'è e potenzialmente qualcuno può collegarsi all'indietro verificare se è un vero problema è un glitch qualsiasi cosa creare una soluzione alcuni vendor dicono che il 90% delle chiamate le chiudono automaticamente senza intervenire sull'utente finale perché sanno già di che cosa si tratta oppure ti dicono guarda tu hai un workload che sta impazzendo ti sembra normale e tu vieni informato dal fatto che c'è qualcosa che sta deragliando ok più o meno quello che sta succedendo e qui sono i primi segnali analizzare il contenuto dell'array non più solo il suo comportamento ma proprio che dati ci sono dentro quindi aprire le macchine virtuali analizzare le macchine virtuali creare contenuti ricercabili capire chi ha acceduto ai dati come ha acceduto ai dati che modifiche ha fatto ad esempio va via un un dipendente il giorno prima di andare via e cancella tutto quello su cui lavorava dalla sera alla mattina te probabilmente hai backup ok ma sei sicuro di sapere tutti i dati che lui ha cancellato magari ti basterebbe fare una query fare una differenza fra quello che c'è il giorno prima e il giorno dopo e vedi tutto quello che è stato cancellato per cui e magari poter recuperare i dati che non sono che erano fondamentali per l'azienda in 5 minuti invece di fare una ricerca che magari ti ci vogliono giorni questa cosa qui adesso ho fatto un esempio banale ma questa aiuta il business ok perché riesci a capire tutto il comportamento dei tuoi dati per cui riesci a capire cosa effettivamente si è mosso nei tuoi dati cosa è più facile da archiviare cosa devi tenere lì perché l'azienda serve puoi anche verificare ad esempio se ci sono dei pattern che magari ricordano quelli delle carte di credito perché tu non vuoi che la gente metta la carte di credito in chiaro all'interno dei dei tuoi storage ci sono miliardi di possibilità che questi sistemi nel tempo andranno a fare sono 4-5-6 start up che sono partite alcune sono veramente embrionali come prodotti però si vede cosa sta per succedere e il valore è qui quindi nei prossimi anni ci sarà sempre più valore su questa parte dell'infrastruttura e sempre di meno su questa parte qui tant'è che questa parte che è già gestita in molti casi sul cloud mentre la parte di supporto di management è ancora molto in casa dicevamo on premises e sul cloud la parte di supporto di management si sta spostando sempre di più e questo sta capitando a tutti i livelli ok ad esempio nel networking ci sono delle start up che sono state acquisite da aziende primarie ok che avevano proprio messo tutta questa parte qui di management della rete sul cloud cioè tu hai gli appliance in casa ma tutto il management viene fatto dall'esterno ovviamente non è che mandano i dati i tuoi dati ok cioè tutti i metadati che gli appliance o gli switch i router o quello che gli access point producono ok vengono spediti su un database e questo ha due vantaggi ha un vantaggio che intanto non devi gestire la piattaforma di management che è la cosa più complicata cioè nel processo di vita di un'infrastruttura il deploy può essere complicato ma è uno dal giorno due c'è il management che è per tutta la vita ok e il management oltre ad essere la parte più perché hai fatto quella faccia? no 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 stavo la 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 parte del management è la parte più complicata ok ed è la parte più è una delle parti più ostiche perché anche solo dover aggiornare l'interfaccia della management dover aggiungere funzionalità all'interfaccia di management è veramente difficile se c'è qualcun altro che ti libera di tutta questa parte qui e lo fa per te e tu ti ritrovi un bottone in più con una funzionalità nuova un report in più con una funzionalità nuova e ti arriva una mail dicendo oh abbiamo aggiunto questo se non ti serve non lo usi ma se ti serviva lo usi ed è gratis cioè non hai dovuto fare niente per ottenerlo ok ovviamente te lo fanno pagare carissimo almeno come contratto però e questo sta succedendo a tutti i livelli di infrastruttura ok sta succedendo a livello di management delle macchine virtuali la stessa VMware sta spostando dei servizi che prima cioè delle applicazioni che prima venivano gestite in casa per la parte di monitoring eccetera le sta spostando sul cloud ok la stessa cosa la sta facendo su OpenStack esistono dei OpenStack complicatissimo come tipo di ambiente ok è vero che se qualcuno ti gestisce ti dice ah noi ti diamo un plugin da mettere sul semplifico qualcosa di più un plugin comunque da mettere sul tuo server e tutta la parte di management di OpenStack la facciamo noi per te quindi te l'unica cosa che devi vedere è l'interfaccia grafica la tua gestione le tue API quello che ti pare però diciamo che ti viene liberata tutta la parte di installazione ti viene liberata tutta la parte abbiamo detto il networking e abbiamo detto lo storage ok quindi questa è la parte installata in casa questa è la parte dove c'è il valore che nel tempo verrà gestito sul cloud sto andando lungo ovviamente scalabilità ok abbiamo detto la prima cosa crescono le risorse le richieste di risorse non crescono solo la capacità cresce le performance cresce la qualità delle risorse che dovete dire e quindi dovete scalare oggi bisogna cercare sistemi scalabili sempre e comunque il modello più facile è quello dello scale out ma esistono altri modelli tipo quello della federazione di diversi sistemi quindi se io riesco a mettere due sistemi che non fanno scale out quindi non è che aggiungo risorse e tutta la mia infrastruttura ne gode ma ho già un sistema che aggiungendo un altro nodo un altro array un altro switch o quello che è io riesco a spostare il carico in maniera più o meno trasparente rispetto ai miei server ho già avuto vantaggio e questo ovviamente porta un altro discorso che durante se non è scalabile e se non posso gestire trasparentemente la crescita non posso neanche gestire probabilmente gli upgrade che sono un'altra cosa che uccide il povero system administrator ok e tutti quelli che ci stanno vicino a lui quindi bisogna evitare i forklift upgrade sia con la scalabilità orizzontale che con questi sistemi di federazione su cui alcune aziende stanno iniziando ad adottare questo è possibile se queste cose non sono possibili dovrete fermare la produzione e fare l'upgrade probabilmente è vero che a livello software esistono delle possibilità ad esempio VMware ha la possibilità di migrare lo storage in maniera trasparente alla macchina virtuale ma non tutti usano VMware e ancora oggi ci sono delle macchine fisiche in azienda che di solito per un motivo o per l'altro potrebbero essere anche le macchine più critiche quindi non è facile fare le migrazioni se c'è qualcun altro se l'infrastruttura mettiamola così lo fa per te è meglio comunque ritorno all'inizio i sistemi devono essere bilanciati ok devono stare in piedi non bisogna fare delle cose che siano assurdamente in un senso o nell'altro domande? l'infrastruttura non c'è